Se trovo qualcuno con la skin di Wolverine il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzuoli la sfida di oggi è Se trovo la skin di Wolverine il video finisce Questi sono i primissimi giorni proprio della sfida Quindi non dovremo trovare tanti Wolverine Ma comunque ci sono in giro Quindi dobbiamo stare attenti Nessuno mi raggiunge? Tutti quanti hanno visto la boogie bomba e la mia grandissima pistola ottenuta Perché io solo quello posso puntare nelle ceste E se ne sono andati tutti quanti Va bene come volete ragazzuoli La pistola però me la tengo Quasi quasi levo dei boogie Mi porto il fucile a pompa Facciamo così aspettate Ok posso così Andiamo giù Niente cesta E qua Solo un tizio che cammina Va bene che sembrano i passi di Wolverine Mamma mia parlando ora proprio di Wolverine Passi potentissimi Allora io sto lazy La maggior parte delle persone si è buttata Io credo nella zona di Vipi Voods Quindi non dovremmo avere tutti sti gran problemi Però non sottovalutiamo comunque la cosa È sponato letteralmente È letteralmente sponato Un camion davanti ai miei occhi Mo dico A parte il tizio che mi ha cecchinato E che nella vita non c'è niente da fare Mi può mai sponare Un cavolo di Cioè letteralmente non gli è entrato un proiettile Letteralmente non gli è entrato un proiettile E non è possibile questa cosa Cioè Ma cosa sta succedendo a questo gioco ragazzoli Veramente io non ne ho idea Sono scandalosamente scandalato Non significa niente ciò che ho detto Ma non è un problema Aveva mitragliette Ci ho fatto caso Però mi pare di no Calmi Non ho capito dove è andato Ma non è qualcosa che mi riguarda Io per ora mi limito a lotare un po' di legno Non credo mi stia più guardando Forse Non sono propriamente sicuro Qua non c'è neanche la cesta Va bene allora andiamoci Solo che con così pochi materiali Non so quanto convenga buttarsi Solo che Se non lo faccio ora Probabilmente smettono di fightare E perdo il vantaggio tattico Dell'effetto sorpresa Quindi Andiamo comunque No Eh ho utilizzato troppi materiali Quei pochi chiave li ho dovuti anche utilizzare Godo Un sacco Godo veramente tanto GG per te Allora shockwave grenade Accetto volentieri Bella per te Ok Mo però ci servono materialozzi Eh Adesso sapete perché me lo tengo Ora vi faccio vedere Ora questo me lo tengo Perché vado a fare una cosa Che non posso fare in realtà Quindi ho sbagliato Perché non posso fare lo switch Con Quello a colpo singolo Dato che mi mancano i materiali Mi pare eh Sì Ma nessuno di questi era Wolverine Eh Non mi pare perlomeno Grazie mille Oh pozza grande È bella Me la sparo subito Ok Io credo che qui in zona La gente sia finita Se noi vogliamo andare a fare i casini Ragazzi andiamo a vivi Puzz Cioè se vogliamo gente Andiamo letteralmente lì E troviamo pane per i nostri denti E ci scommetto tutto quello che volete Tranquillamente Possiamo fare così volendo Belle queste macchine Che mi spawnano davanti Allora facciamo un attimo Un change veloce E cerchiamo un attimo Qualche Cura che ci potrebbe tornare utile Thermal fish Ovviamente Roba oro Ma nulla che ci interessi Jelly È termale Stiamo a due termale Dai Qua Ragazzi Ho questo termale Siamo sicuri Con una rarità leggendaria Flopper Bolt action E vabbè E vabbè Diciamo che non si è assolutamente sprecato Per darci nulla di decente Questo gioco Però va bene Grazie comunque Me lo farò andare bene Bello che sotto è azzurro Devo dire la verità La zona non è stata proprio lootata Vabbè Agli otoriti una volta ci andavano tutti Ma chi ci va più Peccato È un colpo al cuore vedere non andare nessuno qui Potremmo incontrarli Ma non è sicuro Io quasi quasi ragazzi Questo change lo faccio E mi spot il flopper di così Se qualcosa sappiamo che sta qui Se ci servono cure imminenti per la vita Attenzione È un riftato però Qua invece Niente Stesso pump Ok Sperare in uno spazio è un po' esagerato però Con un approvigionamento davanti Un piccolo corpo di fortuna non mi spiacerebbe Allora Eh ovviamente infatti Sì al massimo potevo sperare In questo Ok Ci sta dai Non fa nulla Vabbè Allora andiamo a Celti E poi ci avviamo verso Vipivods Un po' sotto Ma credo che vada bene così E poi in tutto questo ragazzi Non mi ha fatto un botto di partite Ma proprio Wolverine Cioè come skin in game Mentre giocavamo Giocavamo Non l'abbiamo trovato Eppure mi fa molto molto strano Troppo Cioè Dico Eppure molta gente l'ha sbloccato L'ho visto online Che Sì la sfida era complicata Ma non così tanto Ah finalmente una macchina Dai Ok È un paio di C'è no 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 Io questo non lo accetto Proprio nella mia esistenza No Avete visto tutti Ragazzi Avete visto tutti L'avete visto tutti L'avete visto tutti L'avete visto tutti Grazie a tutti.